Il tutto avviene perché non hanno riconosciuto quel bambino come proprio in quanto loro marcano un territorio e quel territorio è di proprietà soltanto dei familiari che poi li hanno abituati, tant'è che noi per recuperarli insieme al collega abbiamo dovuto ricorrere a personale specializzato ma che neanche lui poteva intervenire tanto erano aggressivi ed è dovuto intervenire la famiglia stessa che li ha messi nel nostro automezzo per poterli portare in un canile e ricoverarli in un canile. Riconoscono chi non è della famiglia in quel territorio dove loro stanno. Questa è l'unica spiegazione che abbiamo, non abbiamo altre spiegazioni. Il problema è che sono state abituate a dire che questo territorio è nostro e nessuno lo deve toccare. Il problema è che adesso quei cani dovranno subire un percorso con un veterinario comportamentalista e i proprietari per ripigliare i cani, sempre naturalmente magistratura permettendo perché ci dobbiamo raccordare con i magistrati che hanno sequestrato gli animali insieme a noi noi abbiamo fatto un sequestro sia penale che un sequestro sanitario e dopodiché se i proprietari sottoporranno a un percorso che porta a poter gestire quel tipo di animale potrebbero in teoria anche essere ridati a loro altrimenti dobbiamo investire su qualche associazione animalista per poterli assegnare a chi è capace di poter detenere questi animali. La soppressione per il momento non è prevista, naturalmente ripeto bisogna fare il tutto in accordo con il magistrato che ha in mano la pratica. Grazie a tutti.